Sono indici di programmazione, questi indici ci servono per fare un'attività, per completare un'attività di programmazione che di fatto noi abbiamo già, perché? Noi abbiamo già una prima programmazione che abbiamo fatto con l'ufficio speciale per la ricostruzione che riguarda due poli scolastici, in particolare un polo scolastico che parte dalla San Giuseppe e che si continua nel vecchio stadio, abbiamo avuto il permesso di presentare una perizia di variante per il bando delle periferie, 17 milioni di Euro che ci verranno finanziati ed è un primo polo scolastico per circa 700 ragazzi. Poi abbiamo finanziato un secondo polo scolastico nella programmazione che riguarda l'area vicino alla scuola di Alessandro che a completamento sono altri circa 700 posti in strutture modulari da circa 250 posti e poi abbiamo comunque la Villa Ripa che tornerà ad essere scuola. Accanto a questa prima programmazione c'è una seconda attività di programmazione perché nel mio incontro di giovedì a Derrani io ho chiesto che ci vengano messe a disposizione le risorse per iniziare l'attività di miglioramento adeguamento sismico e ho avuto garanzie a Derrani che nel piano che verrà redatto a gennaio 2018 che è il primo piano che il commissario a cui il commissario darà seguito ci saranno le scuole di Teramo, in particolare inizieremo con una scuola che dovremo scegliere, che il consiglio comunale sceglierà che verrà migliorato, adeguato. Il terzo piano di programmazione riguarda una scuola giolli, io ho posto un tema anche alla Fiera Derrani, a Curce e anche al governo, che nel momento in cui noi andremo a fare gli interventi in ogni scuola per migliorare o adeguare e che potranno durare sei mesi, otto mesi dovremo comunque trovare per questi ragazzi una sistemazione ed ecco che è necessario avere una scuola giolli, proprio ieri sera ho coinvolto anche il Presidente Luciano D'Alfonso in questa mia attività, proprio ieri sera Prima Curcio e il proprio Presidente D'Alfonso mi hanno comunicato che questo discorso si farà e che quindi verrà finanziato. Io sono dell'idea che la struttura che risponde a queste caratteristiche e che può essere pronta prima possibile è la curva dello stadio dove c'è già uno studio di fattibilità già presentato al commissario Errani che è già stato valutato positivamente. Grazie a tutti.